Taranto si racconta e si promuove attraverso quella che è la sua vocazione naturale, il mare. In una quattro giorni, dedicata all'Oionio e alle sue straordinarie bellezze, mette in vetrina l'eccellenza del territorio. Una festa, la festa del mare, che il 23 e poi il 28, il 29 e il 30 giugno raccoglierà eventi storici e sportivi, come il Palio di Taranto con la sfida tra i rioni, il Palio del Mediterraneo con la gara a due remi, il Trofeo dell'Adriatico, una gara di respiro internazionale e il Trofeo Interforze con la partecipazione della Marina Militare. Accanto alle attività sportive, anche quelle enogastronomiche, risorse di un territorio che ha costruito la sua economia sul mare e sulla terra e che oggi rappresenta un punto di forza della Regione Puglia, come ci ha spiegato l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni. Le risorse del mare, insieme alle risorse della terra, mi riferisco ai nostri prodotti, si sposano moltissimo e che quindi permettono appunto di aumentare la necessità di dover valorizzare anche il sistema enogastronomico che poi è quell'elemento vincente che ci permette appunto di avere sempre questo trend di crescita del sistema turistico pugliese. E poi abbiamo anche voluto trasferire questa esigenza di voler valorizzare anche la risorsa del mare anche al Ministero, tanto è vero che nella prossima riunione di coordinamento Stato-Regione abbiamo inserito al primo punto l'ordine del giorno come tema la pesca, che è un tema che va discusso a livello nazionale perché va tutelato e va assolutamente aiutato. La città di Taranto attraverso questa grande manifestazione che vede anche il coinvolgimento della Marina Militare di Taranto ritrova il suo riscatto nella promozione della sua storia e delle sue tradizioni. Con questo evento noi secondo me partiamo da una stagione estiva 2013 esaltante, voltiamo pagina come il Sindaco ha detto nella Regione Puglia perché vogliamo far riscoprire una città diversa, la città bella, la città colorata, la città storica, una storia di 3.000 anni che noi vogliamo riportare alla luce. Nella festa del mare torna un appuntamento storico della perla ionica, il palio di Taranto che quest'anno compie 25 anni. Ci rinnoviamo quest'anno con questa festa del mare per la prima volta nella nostra città, una festa che parlerà sicuramente del mare e che darà lustro a tutte quante le attività che possono essere espressione di un rilancio della nostra città, della nostra economia, sia in termini turistici ma anche in termini proprio della nostra produzione locale che è l'oro della nostra città, la nostra cozza tarantina.